In uscita unitamente a sette pattuglie dei palchi per servizio dedicato a zona Forcilla. Ma che scappi a fare? 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 We're on patrol with the Falchi, the plainclothes motorcycle unit of the Naples police force. They're busy again now that robberies and drug-related crimes have picked up after the country's strict three-month coronavirus lockdown was lifted in June. They're driving, but no Eddie's right che oltre. I can't even drive a hampanata. Put your arm on the cans, put your arm near. What is it? What is it? feather, and having a cartel. OK, put it in place. Molte persone che stanno stoppendo sono gange, alcuni sono involucrati in strada, alcuni sono innocenti, ma altri sono iniziati a guardare, che sono involucrati nella mafia locale, chiamata la Camorra. La Camorra è un label di capito per i più di 100 clans che fanno la sindicata di Napoli. In una buona parte dei soggetti fermati sono soggetti pregiudicati. L'italiani hanno sofferto un po' di causa del coronavirus. È questa un'attività che vedete più di più? La criminalità organizzata tenta di sfruttare questi periodi di crisi. Il compito nostro è quello di arginare queste intenzioni e di bloccarli nel momento più opportuno. Dopo la pandemia ha iniziato in Italia e il paese in un lockdown, il governo ha passato un programma di riliempio 435 milioni di dollari. Ma molti italiani non potrebbero accettare i benefici. Alcuni hanno scolgato l'obbligatorio burocratico, mentre altri, circa 3,5 milioni, non sono stati esibili per l'assistenza perché lavoravano off the books. Quindi la Camorra e altri gruppi stavano in dove l'estate ha fallito, portando i pensioni personali. Allora, adesso vi mostro posti, tutti i reperti che vengono sequestrati durante le attività di polizia giudiziaria. Quindi c'è un'attività che si apre la porta, potrei sentire un sentito molto forte di bianco. È un sequestro, un ingente sequestro, che è stato fatto qualche mese fa di sostanza stupefacente. Circa un chilo, una parte di quello che è stato sequestrato. Ritroviamo anche le armi. Un ingente numero di mascherine contraffatte, o meglio, prodotte in ambienti sconosciuti, quindi senza il marchio CE, le autorità mediche ci hanno indicato di distruggerle immediatamente perché l'utilizzo di queste mascherine poteva provocare probabilmente anche la diffusione del coronavirus. e quindi il periodo della pandemia, in questo settore si è inserita la criminalità organizzata e ha cercato di trarre profitto da questa situazione tragica. E' come se lui avesse capito che non deve farlo, non deve dare fastidio, diciamo così. Davide Ciarullo era un membro di grande parte del clan Sessionisti fino a che era stato preso in giallo, read la Bibbia e renuncia il suo lifestyle. Ora, 10 anni fa, ha gesto un centro di comunità in farmale e è un criticatore di comeva. In termini del coronavirus, se il governo non è potuto andare in e aiutare le persone che stanno sfruttando al momento, è questo quando la mafia è potuta andare in? È stato proprio una porta spalancata di famiglie multiproblematiche, certo. Quando eravete in la mafia avessi mai extorto il dinero da persone? È capitato di fare recuperi di denaro che non venivano restituiti. Avveniva anche in una maniera abbastanza violenta, quindi è capitato di andare a casa di questo signore ci hanno messo davanti i bambini per farci un po' per farci essere buoni. Li abbiamo chiusi in camera perché facevano troppo rumore troppo urlavano perché avevamo capito che il papà era nascosto in casa, quindi l'abbiamo trovato sotto il letto e l'abbiamo mandato in ospedale. So, if you were still in the Camorra you have no doubt that this is exactly what they'd be doing right now. si esercita questo e anche peggio. Questo succede quando la Camorra ti dà come favore ciò che lo Stato ti dovrebbe come diritto. ciò che ha avuto un uomo che ha avuto 55.000 dollari tre anni fa e ha deciso di pagare però ancora ha avuto 170.000 dollari in interesse. ripeto con le spese che ha un'azienda naturalmente mi sono rivolto agli istituti come dicevo prima bancari per avere supporto finanziario mi è stato negato parlando con con amici che hanno lo stesso problema mi è stato presentato questa persona in primis dicendo ti da un aiuto poi dopo lo dovrà restituire in torto tempo con un interesse pari al poi i primi mesi ho sempre onorato e pagato poi non ce l'ho fatta più perché la richiesta saliva sempre di più e sono venuti nel nel periodo tra virgolette lockdown e loro vanno vanno da tutti la richiesta è stata fatta anche a me però io non ho pagato perché non posso pagare perché non ho lavorato non lavoro non ho soldi non ho pagato quindi cosa succede allora? probabilmente è qualcosa fisico oppure toccare un familiare gli facciamo vabbè dove è tuo figlio dove è tua moglie dove è tuo fratello tua sorella tuo padre dove è tua madre ho una figlia e quindi l'unica figlia che ho quindi è la mia vita l'Unione ha spent decadze trying a come chiamare i non i i i i i i i i i non i 200 high-security inmates, including several Mafia bosses, were released. Less than two months later, and after a huge public outcry, the house arrest program ended. The government says that almost all the mafioso they released are back in prison, including the big bosses. Angela Salafia is a representative for the anti-establishment Five Star Movement Party. She supports the minister who oversaw the release of the prisoners. Why were more than 200 Mafia members released back into their homes under house arrest, rather than being kept in prison? Why did that happen? So why was there an oversight that allowed the Mafia or Mafia members to be able to do that in the first place? The government is responsible for what happens inside the country. And at a time of national crisis, when people were already traumatized and struggling as a result of Covid, some of the most violent men in society were allowed back into the homes in the middle of these communities that were traumatized by them. Still, after hearing all of that, you don't believe that anything was done that was wrong by the government. What I'd like to say is that, but initially, the government had done everything to avoid, first of all, that the Covid-19 could spread all within the prisons. And then, as I said, with the first decree, it was explicitly prohibited that these measures were applied to the victims of the Mafia. But that didn't happen. So it was absolutely not the intention of causing a situation like this. So the citizens should be calm, because we are very careful. If we can see it here, then we can see it again. 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 Unfortunately, there are people who have fear, but they have there reason to do it, because they do not feel protected. We have needed of laws that encourage the Mafia to confirm the Mafia. But these laws have encouraged the Mafia to confirm the Mafia. Let's go, are you ready? Questa era la villa di Walter Schiavone, villa nota come Scarface perché il proprietario diede il DVD del film Scarface e si fece fare la villa uguale. Cattello Maresca ha spento i ultimi 13 anni prosecuting the Camorra. He's helped track down and put away 5000 members, including several infamous mob bosses. Ora c'è un parco per bambini, qui prima originariamente c'erano le scale. This is a pool that's based on the film? Sì, veramente pazzesco. What is the potential consequences, do you think, that the government will have to face because of the decision they made to release some of the mafia back into the communities? Do you think that that was the right decision to be made? No, questo è stato un gravissimo errore. Ma le conseguenze sono che dobbiamo ricominciare a lavorare da capo. Bisogna ritornare ad arrestare, bisogna ritornare a sequestrare bene. Why is it so hard to track them down and arrest them? Perché poi noi li arrestiamo, magari li arrestiamo dopo cinque anni, dopo dieci anni. Però in questo periodo di tempo loro hanno fatto dei danni allo Stato. Sono questi danni che difficilmente si riparano. Chi si tratta di responsabile per questo errore? È tutto il sistema che non ha funzionato. Perché non è riuscito a capire prima che cosa poteva succedere e a mettere un freno, una barriera, no? È avvenuto troppo tardi. Avremmo dovuto farlo tutti, anch'io mi considero. Grazie per la visione. Grazie. 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 Grazie.